L'Urbanistica urbanistica. Durante i suoi due mandati come sindaco lei si è occupato molto del sistema infrastrutturale della città e della visione che Brescia ha assunto come città nel tempo, però successivamente negli altri mandati, nelle altre amministrazioni non si è parlato molto di visione della città, quindi lei cosa ne pensa dal suo punto di vista di come dovrà essere la città in futuro? Allora, io mi sono molto limitato in questi anni quanto alla mia presenza a Brescia, ormai non sono più sindaco da sette anni, anche perché credo che sia un buon principio quello di non fare le vedove di se stessi in sostanza. Questo non significa che io non abbia osservato, non mi sia fatto delle impressioni, dei giudizi, delle valutazioni. Il primo dato che vorrei sottolineare è la grande eredità che l'ingegner Mario Venturini ha lasciato, un patrimonio di idee, di progetti, di proposte, di riflessioni, di considerazioni. Mario Venturini, l'assessore urbanistica della mia amministrazione, era un ingegnere umanista, conosceva la città e la camminava per averla camminata. Credo che alcuni dei capisaldi della sua impostazione valgano per l'oggi e per il domani. Penso ad esempio la tutela delle riserve di naturalità di questa città. In secondo luogo, avendola, come dire, mutuata dal professor Secchi, che era inizialmente il primo incaricato di redigere il nuovo piano regolatore, l'idea di una città frattale, e cioè di una città che non doveva consumare ulteriore territorio, ma, come dire, ricomporre gli spazi vuoti nel segno di una volontà di privilegiare la qualità della progettazione architettonica. Insomma, la ricomposizione del tessuto urbano e la sua riqualificazione. Ancora, io credo che una particolare attenzione alle periferie, che nella nostra impostazione non si chiamavano più periferie, ma non era semplicemente un problema di definizione linguistica, ma di interpretazione, erano luoghi centrali. E quindi l'idea che una città non è caratterizzata soltanto dal centro storico, da questo grande patrimonio di tradizioni, di storia, di cultura, ma doveva, come dire, questa città misurarsi anche con i tempi che erano stati quelli della sua espansione e doveva riqualificare l'intero tessuto urbano. Alla luce di questa interpretazione, le periferie diventano luoghi centrali che vanno riguardati e curati con particolare scupolo e particolare attenzione. Credo poi che Venturini, ma questa era un'impostazione intera giunta, fosse consapevole che la città, come dire, del modello fordista, del modello socialdemocratico, apparteneva ad un altro tempo, insomma ad un'altra epoca. E quindi il tema della trasformazione di alcuni ambiti della città, penso al comparto Milano, penso a Borgo Wührer, penso all'area dei magazzini generali, secondo un disegno tuttavia unitario che era improntato al principio della mixité, cioè al principio della mescolanza delle funzioni, perché una città deve interrogarsi sulle proprie trasformazioni e sul fatto che è il luogo dello scambio, che è il luogo, diciamo così, che assolve all'espletamento di alcune funzioni fondamentali, penso alla funzione dell'amministrazione, la funzione della giustizia, la funzione della salute, la funzione del gioco, la funzione della convivenza e così via. E quindi la progettazione andava ispirata, diciamo così, alla volontà di tenere insieme questi fattori secondo un equilibrio virtuoso. Parlando del ruolo che le amministrazioni ricoprono nelle trattative pubblico-privato nei confronti di grandi aree dismesse, diciamo che a seconda dell'ideologia politica o di un certo tipo di orientamento si tende a avere un atteggiamento attivo o passivo nei confronti dei privati. Lei come commenta questa ideologia, questo modo di fare urbanistica? Guardi, la definizione migliore che io ho imparato peraltro da un mio predecessore, da un grande sindaco, quello è stato Pietro Padula, sostanzialmente rimanda a questa dicotomia. Una cosa è l'urbanistica contrattata e l'urbanistica contrattata significa sostanzialmente un cedimento del ruolo di pianificazione pubblica dell'ente locale o l'urbanistica finalizzata. L'urbanistica finalizzata significa che l'ente locale detiene la leva della definizione delle funzioni e delle finalità che intende perseguire e questo gli consente anche, diciamo così, un rapporto col privato, un rapporto virtuoso. Penso ad esempio al grande tema della virtù bresciana che è rappresentata da San Polo e San Polino, no? E cioè lì il comune ha svolto un ruolo di ordinamento generale, di progettazione urbanistica, ma anche di gerarchia degli interventi e delle destinazioni. Ecco, credo che questo sia un esempio virtuoso di urbanistica che Brescia può, come dire, proporre come un punto di riferimento valido ancora per l'oggi. A proposito del fare politica urbana, lei pensa che si possa ancora parlare di un modello di pensiero di centro-destra piuttosto che un modello di centro-sinistra? Guardi, questo bipolarismo urbanistico non mi appassiona in sostanza. Io credo che ci sia un'urbanistica virtuosa e un'urbanistica che non è virtuosa. Mi pare che certamente valgono valgono le culture politiche, valgono le sensibilità, valgono le attenzioni, valgono soprattutto in relazione alla definizione della gerarchia delle rilevanze, delle scelte che si debbono appunto compiere. Ma soprattutto vale l'idea di città e la visione del futuro che si ha appunto di una città. Penso ad esempio un grande tema è quello che attiene all'accoglienza, ai processi di immigrazione, alle trasformazioni del tessuto produttivo da città industriale a città post-industriale. Ma questo significa forse che dobbiamo smarrire la vocazione manifatturiera della nostra città. Ecco, queste sono secondo me le vere categorie che vanno messe in gioco sulle quali centro-sinistra e centro-destra si devono misurare, al di là di letture del tutto ideologiche di questa problematica. Lei prima citava Bernardo Secchi che è stato sicuramente un importante urbanista che ha dato un grande contributo alla città di Brescia, sia nel PRG che nell'urbanistica in generale della città. Bernardo Secchi nella sua relazione citava le nuove centralità che Brescia dovrà acquisire come complesso cittadino. Lei pensa che l'importanza delle periferie si avverrà o ci sarà un'inflessione verso il centro? Guardi, innanzitutto con Secchi noi abbiamo avuto un tema conflittuale. L'ha avuto prima Martina Zoli e poi l'ho avuto io. In realtà l'ha avuto Martina Zoli ma sulla base di una relazione che avevo steso quando Martina Zoli mi aveva incaricato mi aveva dato anche la delega all'urbanistica perché il libricino verde nel quale per la prima volta si parla di metropolitana leggera automatica fu redatto da me come assessore urbanistica. Ora la metropolitana era esattamente pensata come un fattore di ricucitura del tessuto urbano appunto da Casazza grosso modo fino a Bufalora-Sante Eufemia. Questo per dire che una città deve essere come dire ricucita deve essere tenuta insieme e il meccanismo del trasporto pubblico è uno dei fattori di incentivazione. Io credo che adesso il tema sia quello innanzitutto dell'arredo urbano e cioè ricordo che abbiamo come dire siamo intervenuti alle Fornaci, siamo intervenuti al villaggio Sereno, siamo intervenuti alla Badia, siamo intervenuti a Monpiano, siamo intervenuti a Porta Venezia, cioè via Le Piave con la zona interessante sarebbe adesso secondo me intervenire su via Orzi Nuovi e sulla zona, il quadrante diciamo così sud-ovest della città. Credo che questo sia il primo tema. Il secondo tema è quello della dislocazione delle funzioni della dislocazione delle funzioni perché normalmente le città vedono le funzioni principali insediate nel centro storico. Credo che sia compito delle nuove amministrazioni anche nel quadro di un rapporto fecondo con l'Interland. Non dimentichiamoci che Brescia ha un Interland di circa 500.000 abitanti definire questo sistema di relazioni e come dire inventarsi delle valorizzazioni di funzioni che non possono essere tutte insediate nel centro storico. Questa è una delle sfide che l'amministrazione Paroli ha avuto di fronte e che l'amministrazione del Bono sta ereditando. Tornando al rapporto tra l'Interland e il centro, ultimamente nelle zone periferiche di Brescia stanno costruendo molti centri commerciali che hanno un bacino di distribuzione della media e della grande distribuzione. Uno di questi esempi è l'amplimento dell'IKEA a Roncadelle. Lei pensa che queste infrastrutture commerciali rappresentino ancora un volano per la città o siano solo degli incubatori di vendita di bassa qualità che vanno a discapito dei piccoli commercianti? Guardi, io so che c'è stata una polemica anche nei confronti della mia amministrazione perché quando noi decidemmo la trasformazione del comparto Milano necessariamente ci trovavamo nella situazione di inserire anche funzioni commerciali e freccia rossa. anche perché delle due luna o si teorizzava la possibilità di questa trasformazione del comparto o si lasciava tutto com'era. Non è pensabile la trasformazione di un comparto di circa 40 ettari senza dover in qualche misura pagare lo scotto di inserimento di funzioni commerciali. Detto questo io credo che c'è ormai una saturazione e che quindi la grande distribuzione debba essere in qualche misura bloccata. Ecco, io non mi permetto di giudicare le scelte dell'amministrazione comunale di Roncanelle perché non conosco le problematiche, però come orientamento di linee di politica che mi sentirei oggi di perseguire se mi trovassi in una situazione di avere un ruolo che per fortuna non avrò più, direi che va appunto bloccata la diffusione dei grandi centri commerciali. Parlando degli ex magazzini generali, sono sicuramente un'area molto importante della città e del quadrante sud-ovest. Nell'ultimo decennio si sono succeduti importanti progetti di Galantino, Gregotti, Libeskin. Adesso il Comune ha deciso, ha varato un piano per la costruzione della nuova COP con annessi nell'area, residenze e uffici. E non trovo che questo modo di fare urbanistica sia quantomeno un po' obsoleto? Beh, innanzitutto io coltivo la nostalgia perché fu l'Election Day del 2008, e cioè l'anticipazione della fine della legislatura amministrativa guidata da me, che ci impedì per una manciata di giorni, 15-20 giorni, di approvare in via definitiva la trasformazione dell'area di magazzini generali. Ed era il progetto Venturini. Poi so che la Giunta Paroli aveva modificato i termini della progettazione, aveva pensato di trasferire lì gli uffici amministrativi del Palazzo Municipale e così via. La Giunta del Bono ha ereditato, diciamo così, un percorso molto accidentato e ha portato finalmente a compimento. Io ho una mia vecchia aspirazione. In un libro che avevo scritto alla fine della mia mandato da sindaco, che si intitola Su le ali della vittoria, in questo caso la vittoria alata, cioè la grande statua simbola la nostra città, avevo ragionato su quelli potevano essere delle linee di politica per la cultura. Avevo individuato nell'area delle casere, ecco questo è un aspetto che sta molto a cuore a me, la possibilità di, questo era forse un sogno insomma, però era una provocazione, una suggestione, di dotare Brescia di uno spazio finalizzato a consentire lo sviluppo della creatività giovanile. La creatività giovanile, cioè i giovani che sono in grado di, avendo a disposizione, diciamo così, delle location adeguate e strutturate, possano dare, dare, come dire, libera espressione alla propria creatività, alla propria espansione personale e così via. E quindi quel che io auspico di quel progetto, ripeto, non voglio esprimere giudizi sulla soluzione che è stata trovata, è che quel manufatto che si chiama appunto Casere, che è secondo me uno spazio significativo e straordinario, possa trovare una valorizzazione, magari, soprattutto, credo, con l'intervento anche di risorse private. Oltretutto, importanti esempi di archeologia industriale, quali sono le Casere, in altre città o all'estero sarebbero senza dubbio valorizzate. Sto pensando all'Hangar Bicocca, alla fabbrica del vapore, oppure all'estero, alla Tate Modern di Londra. Invece, a Brescia sembra che questo tema del recupero non venga preso in considerazione, soprattutto dal mondo imprenditoriale. Lei non trova che manchi una sensibilità sotto questo punto di vista? Ma, guardi, secondo me due sono i fattori. Da un lato c'è, presso taluni, settori del mondo imprenditoriale, sottolineo taluni, forse una certa sottovalutazione, come dire, delle proprie responsabilità e un qualche deficit di cultura, insomma, culturale, di sensibilità e così via. Dall'altra parte, però, mi rendo conto che la situazione economico-finanziaria e la crisi che attanaglia il nostro paese e che investe anche la nostra città da qualche tempo, da qualche anno, può costituire un limite, appunto, una remora. Credo che, soprattutto, una interlocuzione vivace, un dialogo prezioso e fecondo tra amministrazioni pubbliche e società civile e mondo imprenditoriale, possa essere la chiave di volta, perché qualche sensibilità va anche sollicitata, va anche fatta crescere, va fatta maturare, no? E quindi mi pare che questo potrebbe essere uno sforzo che potrebbe dare dei risultati significativi e anche per molti versi innovativi, perché so che nel mondo imprenditoriale c'è invece in taluni settori una cultura dell'innovazione, un gusto della sfida, una capacità di cimentarsi con sfide inedite che è sicuramente molto apprezzabile. Per quanto riguarda il recupero delle casere, negli ultimi mesi sta circolando l'idea di una possibile riqualificazione come mercato comunale al dettaglio. Diciamo che questa è un'ipotesi che abbiamo sviluppato noi come giovani progettisti e che poi è stata sposata al Presidente di Brescia Mercati, Giovanni Pagnoni. Lei pensa che questa possa essere la giusta soluzione per il rilancio del quartiere del quadrante sud-ovest di Brescia? Allora è un modello che conosco, è il modello Helsinki. A Helsinki sul porto c'è una struttura che in qualche misura può far pensare a qualcosa di simile alle nostre casere, con dentro tantissimi micronegozi, banconi, soprattutto di consumo alimentare, di ristorazione, frutta e verdura, pesce, ma anche di consumo in loco del prodotto alimentare. Certo, ribadisco che l'ipotesi casere utilizzate per la valorizzazione di attitudini creative da parte dei giovani, soprattutto del mondo giovanile e ipotesi del Presidente Pagnoni configurano una rappresentazione delle funzioni di quell'area molto diversa. Peraltro evocano problemi di finanziamento, di rapporto comprovato, di reperimento di risorse non indifferenti. Comunque sono tutte e due ipotesi che, per quanto nettamente alternative, meritano di essere approfondite. Grazie.